I gatti sono una passione che avevo fin da bambinetto, 4-5 anni c'era una mia vicina di casa che aveva una gatta che periodicamente faceva i gattini anche perché allora non esisteva la possibilità di sterilizzare le gatti, quindi era un casino di gattini e io passavo i pomeriggi a carezzare i gatti, mi piace andare a morire, solo che crescendo invece che perdere questa abitudine di vedere in me diminuita la passione per i gatti mi è aumentata, per cui io provo una tenerezza infinita, ma non solo per i gatti, io ho anche un'asina, ho qualche cavallo, ho sempre avuto cani eccetera e con i quali vado d'accordo, forse perché non parlano. Grazie.